I compiti della guardia zoofila in Alto Adige sono di vedere se il titolare di un cane o di qualsiasi animale lo tratta adatto alla sua specie, secondo la legge provinciale. Ma spesso vediamo che il titolare ha dei problemi familiari, ha dei problemi precari o la situazione familiare non è tanto bene e loro trattano poi anche gli animali non bene e gli animali soffrono anche sotto questa situazione. Al ufficio veterinario vengono segnalate qualche situazione di un animale e noi andiamo lì a controllare questa situazione, facciamo un rapporto, facciamo una visita, ne parliamo con i titolari, facciamo delle foto e passiamo tutto questo all'ufficio veterinario e poi loro seguono tutto questo fatto.